su macera vai tu vai lì io vado qua bene bene almeno capirà qualcosa la gente che non deve andare in giro ma non ci vuole un genio ti chiedo una cosa più semplice ma sono i vecchi che i capi san casso no sono tutti perché vanno fare ci sono scoperti tutti atleti andare a correre sono scoperti ma porco zio in casa imbecile a casa che cazzo vogliono ti chiedono una cosa più faccia da fare al mondo l'esatto e non lo fanno quando ero giovane io saltavo i fossi per il lungo io cani è sempre sulla poltrona nei coglioni arda barbara d'urso adesso che prendendo però esco tutti figa veramente io cani gli dispi tu è come i popi dio cani i semi gli diga il porco ti dicono la mia il canale vantico dopo crepa e poverino poverino che stetta casa che copia mia è buono è stupido bordo non lo capiscono è quel zio ieri ci sono stati gli stessi morti uguali agli stessi che sono guariti rendi conto nel possibile la roba la roba 460 morti tipo e 44 80 guariti c'è ma ti rendi conto che sono tantissime 40 morti al giorno stai arrivando di nuovo un mezzo ma scusa ma questo qualche cazzo vuole fare questa motore non fa più niente questo qua che culo era solo ordinario amministrazione che gente comunque alla casa principale c'è un team quella che ha sopra il cartellone e qui è dove è sotto di noi no e di in part a noi come sotto di noi sono io sotto di noi e porco dio raga è c'è un team da due dove c'è la casa del cartellone è tutto detto che non è no 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 che rischio che rischio ragazzi cos'era mamma mia il vector arrivo potè l' ump da quando gli hanno cambiato i colpi è l'arma più inutile del gioco sto arrivando vai io provo a tenerli giù là provo non vi dico niente però provo se no scappa indietro comunque ce n'è no no ma qui sono abbastanza protetto per adesso sei sul preservativo? se lo dici no no qui sei protetto perché sei tra due case io so prendo una posizione favorevole che con il m16 al per 3 ma va fa baio con quel car di merda no perché ce la fai buttarti giù di lato ce la faccio senza bolemi guarda che striscia ah no sei tornato giù ma lo sapete che siete scoperati ce la facevi senza problemi a sparare il flotte loro hanno il car e tu hai il m16 ci chiamano 4-5 colpi per terra giù io farei una fuga organizzativa dove? da qualche parte mi serve un'arma? non mi serve se no siete voi contro loro è un'arma è una parola ecco ah ok quel botta è il 261 eh beh dai va bene esplodono bombe uno l'ho preso in testa di quell'iglione uno sopra lì i bastardi sono qua solo che io non ho non ho manco una finestra che li punta dai vieni fuori mi hai chiedato la cassa di merda lì si la k aveva questo qua ma c'era lì sul tetto la k schizio eh non l'ho vista scusami io cane sono ancora là sopra? si si una coppia che scoppia di preciso lato sinistro lato sinistro dietro una cassa di legno quale è questa? si adesso sono nel lato destro sono in tre casso bravo due bravo ma è che al terzo eh non ho neanche una granata cosa vogliamo? andiamo sotto andiamo sotto io una granata ce l'ho io ho una molotov sono sotto ma che ci spara? tre fate bastardi si grande sono ancora sopra? si corri 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 che li prendiamo erano i 50 pote pote qua pote qua vado 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 grandissimi stai fermo però di oro lo cano pote pote arriva ancora uno pote ne arrivano uno due dove? pote ne arrivano due 7000 mi servono mi servono dove cazzo è il car? dove cazzo è il car? eh ma tanto sono dentro non te ne fai molto adesso del car eh appunto eh federini fuori da lì che appena salgono li ammazziamo usciranno da quella stupida si arrivano cattivi eh oh c'è che arrivano cattivi bravissimo vai sul tetto io sono sul tetto intelligentissimo pronti? si sono pronti dove sei il depote? stai lì depote io io faccio ma quanti sono? sono due ma che cazzo è un esercito io non è vero povero solo due sono tre sono tantissimi ma dove sono? c'è ne uno qua dietro? e se arrivano il tetto non mi giro si bene madonna se non ci fosse ok 99 per fortuna che eri da sopra per fortuna per fortuna che eri da sopra mamma mia adesso arriva fortuna che eri da sopra arriva un headshot da là sopra dio santo per fortuna che eri da sopra è morta qua su ma è un botto ho fatto 7 kg madonna ci sono ma mi hai sentito cosa? si ok no perché prima ero crashato non perdava più il gioco ero rimasto fermo lì non perdava più il gioco era venuta fuori la rotella di caricamento ma niente non perdeva più eh ogni tanto succede si si purtroppo è è tantissimo sicuramente no fermati 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 c'è gente solo fermati 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 guarda quanta gente che c'è si ma non sparargli da lì che sei in mezzo al nudo sono in mezzo no perché sono più scoperti loro di noi per quello che ci conveniva sparare subito noi no 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 non so io che ammazza me sei ah sono bugato eh figlio di puttana hanno tutti il carro non lo so secondo me c'è anche un m24 in giro sì questo forse no 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 è un carro è un carro è un carro puntani no no è un è un è un tutti i car sono mi hanno colpito ma non mi hanno tirato giù stai smettando sulla collina posso andare a dire al drop se c'è che schifo di arlo eh cosa quello là è un m24 quello è un m24 io vado al drop eh dove cazzo è qua sotto di me ma non mi sono un posto è la è la preso cavo non è un drop io non ormai sono sotto ormai vai tranquillo tanto io adesso devo andare a stampare comunque l'hanno già preso io vado a stampare il file ciao quella là con l'm24 l'hanno tirato su perché se no mi dicono perché se no mi dicono su grazie ma ti sta curando sì 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 adesso sì dio cane mamma guarda non ho vita sono praticamente mocio 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 po' di spostati subito perché c'è uno a sinistra perché c'è uno a sinistra c'è uno a sinistra c'è uno a sinistra c'è uno a sinistra corri corri cosa dici se prendiamo il nostro una nostra bella macchinina e voliamo sì 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 vado a prenderlo eh ma ero dietro a un sasso dio porco sì ma vabbè ma che cazzo è è